Io non vedo l'ora di poter rimettermi in prima linea con il Movimento 5 Stelle, vedremo come e in che ruolo e così come non vedono l'ora tantissime persone che vogliono soltanto battagliare, che hanno fatto tanti sacrifici, io e tutte queste persone abbiamo tuttavia bisogno di garanzie e le garanzie le elenco una dopo l'altra. Uno, e mi rivolgo anche al Presidente del Consiglio e a tutti i ministri, la revoca definitiva delle concessioni ai Benetton autostradali, perché ogni pedaggio che viene pagato ancora e che entra nelle tasche di quella famiglia è una violazione addirittura della memoria dei morti. Due, una presa di posizione chiara rispetto al tema del conflitto di interessi tra sistema finanziario e gruppi mediatici, mi riferisco banalmente anche all'accentramento del potere mediatico nelle mani del gruppo Exor degli Elcar. E poi la risoluzione, una presa di posizione, preludio a battaglia in Parlamento sul tema del conflitto di interessi tra politica e finanza, perché per quanto mi riguarda è indecorosa l'ultimo esempio che riguarda l'ex ministro Padoan che probabilmente si siederà alla presidenza di Unicredit e che forse condurrà la possibile acquisizione di MPS dopo averla salvata da ministro dell'Economia e delle Finanze con denaro pubblico. Tre, che venga scritto nero su bianco che non vi sarà nessuna deroga al doppio mandato per consiglieri regionali, parlamentari e parlamentari europei. Quattro, che qualunque legge elettorale dovesse essere approvata il Movimento 5 Stelle si presenterà alle prossime elezioni politiche da solo, qualunque legge elettorale dovesse essere approvata. Cinque, che il Movimento non appoggerà mai una legge elettorale senza le preferenze, questo per togliere del potere di controllo alle segreterie politiche e per garantire un diritto a tutti i cittadini che hanno il sacrosanto diritto di scegliersi i loro portavoce o rappresentanti nelle istituzioni. Sei, per me è un punto molto importante, l'istituzione di un comitato di garanzia all'interno del quale parteciperanno iscritti al Movimento e portavoce, non esponenti del governo, che riesca a fare e a scrivere delle regole chiare, trasparenti e meritocratiche su tutte le nomine da effettuare all'interno dei ministeri e soprattutto nelle partecipate di Stato e che entro i prossimi sei mesi pubblichi una lista di tutte le nomine effettuata dai responsabili, dagli esponenti del Movimento 5 Stelle con curricula e compensi percepiti. Questo perché il tema della meritocrazia è l'unico tema che può convincere tanti, tanti giovani a ritornare a sostenere questa forza politica che ha innumerevoli meriti, ma che deve anche fare autocritica, perché altrimenti l'indebolimento del Movimento 5 Stelle potrebbe far sì che la restaurazione al prossimo giro, alle prossime elezioni politiche, potrebbe essere repentina da parte di tutte le forze politiche con le quali abbiamo anche governato in questi ultimi due anni. Questo è un atto d'amore nei confronti del Movimento 5 Stelle e delle prese di posizioni certe, ricordando a tutti che governare, che è il mio obiettivo sempre, altrimenti non mi sarei fatto il mazzo da non candidato, deve essere il mezzo con il quale risolvere i problemi e non il fine, perché si diventa il fine ultimo delle forze politiche governare, si può partecipare a posizioni di potere, ma il cambiamento sarà effimero e illusore. Grazie a tutti e viva il Movimento 5 Stelle.